ciao a tutti ciao ben ritrovati nell'arte di romi e a tutti i nostri amici che ci scrivono grazie 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 soprattutto c'è lo scritto che siamo fortissimi quindi questa cosa ci fa tanto piacere e quindi noi veramente vi abbracciamo con un abbraccio virtuale grande per tutti chiaramente da parte mia e da parte di Roberto e allora oggi un nuovo video tutorial e oggi è l'ultimo giorno di febbraio quindi 28 febbraio ultimo giorno e vabbè febbraio è cortino e noi facciamo gli auguri oggi mi ha fatto così da stamattina oggi facciamo gli auguri a tutti quelli che compiono gli anni il 29 di febbraio ecco quest'anno non c'è e quindi niente noi gli facciamo gli auguri buon compleanno a tutti coloro che festeggiano il 29 di febbraio e quindi lo festeggeranno oggi o domani detto questo ogni tanto mi vengono queste cose pazze detto questo vi ricordiamo i nostri social quindi facebook instagram e tiktok ovviamente il nostro canale youtube dove potete trovare tutti i nostri video tutorial però sugli altri social troverete oltre ai link per accedere quindi comunque per arrivare qui poi su youtube troverete anche delle dei piccoli backstage troverete anche delle curiosità insomma non non sempre sono le stesse cose sui video sugli altri social quindi seguiteci in modo che così potete spiarci a me roberto in tante altre situazioni e soprattutto alcuni di voi ecco appunto ci stanno scrivendo eccetera quindi io vi ricordo la nostra mail l'arte di romi chiocciola gmail.com quindi ci potete scrivere veramente tutto quindi ci potete scrivere se volete un video tutorial ci potete scrivere se non riuscite a fare qualcosa se volete un consiglio su un pennello su un colore oppure magari ci fate vedere un disegno che volete realizzare e quindi magari volete dei consigli insomma noi ci fa piacere anche aiutarvi proprio a 360 gradi non solo sui nostri video tutorial ma anche magari quello che trovate nel web e quindi che magari volete un consiglio in parere ecco quindi scriveteci scriveteci o sulla nostra mail che vi ho appena detto oppure sulle chat dei social che avevo detto prima quindi facebook e instagram quindi siamo pronti per farvi vedere che cosa andiamo a realizzare oggi eccolo qua mi piace molto mi piace tantissimo e questo diciamo che c'è bisogno di un po' di attenzione per per realizzarlo però veramente voi ormai siete diventati bravissimi e anche chi è alle prime armi può provare comunque a realizzarlo non vi scoraggiate se non vi viene bene la prima volta neanche la seconda neanche la decima non vi scoraggiate mai perché bisogna sempre insistere 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 e cercare di perfezionarsi ogni giorno di più quindi mi raccomando la parola non ci riesco oppure non ce la farò mai oppure io non sono capace non si dice non si dice perché dobbiamo sempre provare e mai arrenderci e allora vi salutiamo io e Roberto vi salutiamo vi abbracciamo forte 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 siamo pronti per il nostro video tutorial vi ricordo che nel video tutorial troverete i materiali quindi pennelli e colori utilizzati e poi tutto il video un bacio e ci vediamo a marzo ciao 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 ciao